Oggi vediamo una miglioria dei filtri passa-alto attivi usando un design chiamato Sun and Key che permette di avere una risposta un pochino più netta, un pochino più brusca. Come vi dicevo sono degli approcci operativi, quindi non andiamo molto sulla teoria, vi faccio vedere lo schema e vediamo come applicarlo per poi usarlo nelle vostre applicazioni. I filtri sono molto importanti perché ci permettono, sono il primo passo per andare a condizionare segnali e isolare quello che ci serve o togliere quello che è in più. Iniziamo subito. Vediamo come possiamo fare un filtro più deciso rispetto a quello di primo ordine. Un filtro che capita di trovare molto spesso è quello di Sun and Key. È una piccola modifica al circuito che abbiamo visto nella scorsa volta. La scorsa volta abbiamo creato un filtro passa-alto mettendo un filtro passivo passa-alto, quindi con resistenza e condensatore messi in questo modo, collegati a un operazionale, più, meno, eventualmente con guadagno. Vado a mettere anche i resistori che fissano il guadagno del nostro filtro. Questo mi dà la pendenza di 20 decibel per decade per ottenere qualcosa di un po' più deciso, quindi 40 decibel per decade, c'è questo disegno alternativo che capita di trovare molto spesso. Praticamente mette insieme due filtri passa-alto, solo che il secondo, quindi aggiungiamo un secondo condensatore e il resistore non viene semplicemente messo in questo modo, ma viene collegato in modo da fornire, da creare una retrazione. Quindi avremo il secondo resistore messo in questo modo che va a prendere l'uscita. Non entro nel dettaglio del calcolo della funzione di trasferimento, che faremo le bolle e diciamo è oltre agli scopi di questi video che faccio. Semplicemente vi voglio fornire un sistema per creare un filtro e per essere sicuri che funziona. Quindi se volete un filtro più deciso, questo qua è un design che possiamo utilizzare, poi vi faccio vedere che anche l'ho montato, quindi lo vediamo su breadboard. Vediamo come utilizzarlo per fare i calcoli. Va la pena andare a prendere uno dei vari siti che vi fanno il calcolo, vi danno già tutte le formule e magari vi fanno anche vedere la frequenza. Viene molto più agevole che mettersi i calcoli a mano, possiamo anche evitarcelo. In ogni caso, avendo R1 e R2, questo qua ha un guadagno che è pari a 1 più R2 fratto R1, quindi si comporta come un amplificatore invertente. La frequenza, quindi la fcat, è uguale alla formula, se fate tutti i calcoli, quindi mettendo qui vi ho, questa qua è vi e calcolando qui la funzione di trasferimento, vi viene fuori una formula abbastanza semplice, 1 fratto 2π, qua sotto avete la radice di R3 per R4 per C1 e C2. Adesso vediamo poi con il calcolo online come tirar fuori le informazioni. Occhio, questo qua è un passa alto, l'altra volta abbiamo sorvolato su un aspetto tipico dell'utilizzo degli operazionali. Gli operazionali non hanno una banda infinita, quindi un operazionale usato ad anello aperto, quindi senza nessuna retrazione, ha una banda che è abbastanza limitata, quindi la sua banda è dell'ordine di qualche kHz, qualche centinaio di kHz. Quindi immaginiamo, se lo vado a disegnare, una roba del genere, quindi ad anello aperto sappiamo che abbiamo un guadagno pari a un centinaio di decibel, quindi 10.000, 100.000 volte il valore di ingresso, che è un'applicazione molto alta, di fatti lo porta in saturazione. Quindi se lo usiamo ad anello aperto siamo qua e la banda è molto ristretta. Invece creando la retroazione diminuiamo il guadagno, diminuendo il guadagno riusciamo a spostare la frequenza di taglio, quindi a guadagno unitario siamo al massimo e questo valore massimo di solito è attorno a un MHz, qualche decina di MHz, dipende dal modello. Quindi mettiamo magari un MHz, che penso sia più o meno lo standard. Quindi questo qui è per l'inseguitore di tensione. Se il guadagno, più il guadagno sale, più restringiamo la frequenza massima possibile. Quindi con un filtro passa alto bisogna stare attenti perché il nostro filtro potrà arrivare al massimo al valore di qualche centinaio di kHz. E quindi se andiamo a prendere valori troppo elevati, abbiamo un circuito che funziona in modo non corretto. Quindi occhio anche al guadagno, che se lo mettiamo troppo elevato rischiamo di stringere troppo lo spazio disponibile. E quindi creiamo in effetti un passabanda. Quindi la frequenza di taglio, se la mettiamo per esempio qui, il mio filtro passa alto, attivo, non sarà a frequenza infinita, ma sarà, diciamo, questo qua rosso, ok? Quindi è un passabanda perché poi taglia la banda superiore. Quindi fate attenzione. Occhio che in linea generale più è alto il guadagno e più lo riduco. Quindi più è un passabanda rispetto a un passa alto. Per realizzare questo tipo di filtro potete usare, come ho fatto io, un LM358. dovete sempre andare a creare il secondo circuito che vi genera la massa virtuale. Facciamo così, quindi meno o più. Quindi se questo qui è il primo elemento del nostro LM358, lo andate a alimentare, per esempio 12V sul pin 8, il pin 4 dove metto l'alimentazione negativa, il GND, i pin qui saranno il 3, il 2, questo è l'1. L'altro operazionale che ho ha i pin 6 e 7 che vado a chiudere. Da questa parte mi vado a ricavare la mia massa virtuale, la indico magari con una V, e qui vado a collegare un partitore con due resistenze, per esempio da 10K, che mi dà il riferimento centrale. Questa massa virtuale, la indico qua in magari azzurrino, V, la vado poi a collegare dove ho il segnale. Quindi la vado a mettere qui, la vado a mettere qui, in modo che possa funzionare correttamente. Per il calcolo, usiamo il sito che abbiamo visto l'altra volta, quindi andiamo a prendere okavadenshi.jp, se qua scendiamo troviamo Stun and Key Active Filter, High Pass, in due varianti, quindi senza guadagno e col guadagno, ma è praticamente la stessa cosa, basta poi eventualmente introdurre il valore delle resistenze. Immaginiamo di farlo senza guadagno, quindi se lo faccio in questo modo vado a mettere per esempio 10K, sulla R1, la R2 mettiamo 10K, condensatore li metto tutti da 10 nF, tutti uguali, in modo che sia più semplice. Clicchiamo su Calcola, vedete che abbiamo una frequenza di taglio che è pari a 1,6 KHz, come se fosse un passa alto passivo, abbiamo però una pendenza maggiore, qua sembra identico a prima, però vedete la scala è diversa, e quindi ogni passo è circa, cioè sulla decade è 40 dB. Andiamo a vederlo su Breadboard, questo qui è il passa alto, il passato, il Sun and Key, con i due condensatori, vedete qua, questo anche amplifica, quindi è un'amplificazione di 3. Ora andiamo a vederlo con le due sonde ingresso e uscita, sui generatori di segnali, qua metto 100 Hz, mettiamo 1 KHz, vedete che già abbiamo una differenza, e il segnale di uscita però vediamo che è leggermente distorto. Aumentiamo, andiamo a 2, 2 KHz, vediamo la differenza di due segnali, aumentiamo ancora a 5, e poi ci mettiamo a 10. Avendo capito come funziona il sistema, potete poi collegare più filtri insieme. Sappiamo realizzare filtri di primo e secondo tipo, le catene, se voi volete un filtro di grado superiore, potete andare a collegare, se volete un filtro di terzo grado, vuol dire il grado che, diciamo, il taglio sarà più netto. Se questo qua è quello di primo, quello di secondo è un pochino di più, quello di terzo aumenta, quarto ancora di più e così via, fino ad arrivare quasi a un gradino. Ovviamente poi aumenta il rumore, ci sono tutta una serie di altri problemi. Se volete combinare più filtri, conviene sempre mettere prima quello di grado inferiore, e poi quello di grado secondo. In questo modo abbiamo un filtro di terzo grado, se volete il quarto grado, ne mettete in catena due di secondo, per il quinto metterete primo grado, poi secondo, secondo e così via. Bene, per oggi è tutto, spero sia tutto chiaro, quindi vi incoraggio a fare esperimenti, provare di vostra mano, magari proveremo anche a simularli con qualche software nei prossimi video. Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani, ciao!